Avete bisogno di una babysitter, di un idraulico, di qualcuno che sappia aggiustare una tapparella o di un falegname? Basta un clic sul sito del Comune di Teramo la soluzione Minijob, la piattaforma che incrocia offerte e richieste di lavoro, anzi di lavoretti. Un portale innovativo che valorizza le abilità professionali degli utenti e permette di trasformare un hobby nel lavoro dei loro sogni. Com'è nata questa idea? Nasce dall'esigenza del territorio. Noi pensiamo che la crisi si può sconfiggere in provincia. Abbiamo lanciato il progetto 100 comuni pensando di riuscire a realizzarlo in 18 mesi. In 2-3 mesi abbiamo già superato 32 comuni che hanno aderito al nostro progetto. È un progetto molto basico, molto semplice. Diamo la possibilità ai singoli sindaci di avere una piattaforma di incrocio domanda offerta per i piccoli lavoretti. Babysitter, golf, muratori, idraulici oggi hanno una piattaforma dove riescono a mettersi a disposizione dell'utenza privata. Utenza che normalmente ritrova nel sindaco una persona di garanzia, una persona che normalmente aiuta più di quello che dovrebbero probabilmente fare. I piccoli lavoratori che fanno i piccoli lavoretti per entrare in questa piattaforma come devono fare? Molto semplice. In pochi clic si inizia a lavorare, diciamo noi. Riusciamo a monetizzare il tempo delle persone. Lei consideri che bisogna non essere per forza dei professionisti. Noi questa piattaforma l'abbiamo pensata anche per i pensionati, gli inoccupati, i disoccupati. In pochi clic di registrazione si mettono il proprio profilo, nome, cognome, mail, e si dà la possibilità di essere impegnati per determinate attività con l'indicazione di un prezzo. Poi c'è il nostro servizio, la nostra cabina di regia che sostanzialmente verifica in pochi secondi se quelle informazioni che vengono messe effettivamente sono vere oppure no, utilizzando l'intelligenza artificiale. Vogliamo dare un indirizzo? teramo.minijob.it è la piattaforma di Teramo. In generale minijob.it è la piattaforma nazionale che viene declinata per i 100%, speriamo, oltre ai comuni. Il portale minijob in pochi mesi è diventato virale, lanciato il 26 luglio scorso, ha già ottenuto l'adesione di 30 comuni tra Marche e Abruzzo. Saranno i sindaci ad avvantaggiarsi particolarmente di questo servizio, sostengono i responsabili della piattaforma, sono loro infatti a ricevere giornalmente decine di richieste di lavoro.